guardate che carino che cari che caffè allora allora siamo qua arrivati con due belle brioche col tuffo guardate il conto ma non pari di una sua maglietta non sembra lui questo sono io quando ero piccolo ho preso una foto e l'ho fatta fare scelta carino eri però allora spieghiamo queste granite queste granite che sanno fare solo a catania 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 taormina bene messinesse nasano fare siracusa nasano fare che acqua ma proprio acqua con ghiaccio ora criticatemi quando volete ma è un mio parere personale a me non mi piace certo allora invece quale fanno buonissime siamo alle 2 anni e la mia è pesca e mandorla con panna sopra il conte figo d'india guardate la cremosità guardate a te ti piace siracusa non possiamo esprimere il nostro parere a te ti piace una bella cittadina eccetera la granita siracusa è bellissima ortigia è bellissima io parlo la granita bevetevi la birra fredda con la granita di limone infatti perché addirittura a siracusa nella granita mettono la cannuccia secondo te perché mettono la cannuccia perché troppo liquida un po come quella romana grappa che bravo bravo a me non piace il posto esprimere un mio parere no ora non comincio a di siracusana a scrivere perché io vi amo sogno innamorato ma granita non mi piace vabbè comunque ragazzi a dopo a dopo una colazione a voi vediamo cosa succederà nel corso della giornata scelto a tra poco grazie